Oggi primo settembre, tra l'altro giorno del mio compleanno, vi presento il nuovo arrivo, la nuova disponibilità di Discus Stand Care presenti qui in negozio, realmente presenti qui in negozio. Questo è il primo rifornimento dopo l'estate e quindi come al solito qui in questa prima vasca abbiamo dei German Wonder da 6,5 e dei Dark Angel da 5 cm, sono disponibili anche i 5 cm adesso, cosa che tutta l'estate sono mancati. A fianco abbiamo Blue Diamond e Allenquer da 5 cm, i Solid Turquoise da 5 cm, Marlboro Red e Cobalt Solid da 5 cm, Brillant Turquoise e Snack Skin Blu o Rossi da 5 cm, Red Scribelt e Pigeon Blood Blu o Rossi da 5 cm, sono ancora un poco timorosi, stanno sempre tutti, un poco tutti nascosti, ma prossimamente usciranno anche loro. Sotto abbiamo dei turchesi rossi da 6,5 cm, con l'occasione vi ricordo che dopo seguirà il video dei nuovi, delle nuove varietà Stendger, i Red and White Leopard che stanno in un altro acquario. Qui abbiamo dei verde Snake e dei Pigeon Blood Snake da 6,5 cm, Snack Skin Blue e Snack Skin Red da 6,5 cm, Malboro Red 6,5 cm, Pigeon Blood Blue e Pigeon Blood Red 6,5 cm, Santa Rem e Cobalt Solid da 6,5 cm, Santa Rem e Cobalt Solid da 6,5 cm, Blue Diamond e Solid Turquoise da 6,5 cm, Blue Diamond e Turchese Brillante da 6,5 cm, chiedo scusa. Qui abbiamo dei Solid Turquoise e dei Dark Angel da 6,5 cm, Non vi rispondono, ci vediamo dopo, ci sentiamo. Qua abbiamo dei Allen Quer e Pigeon Blood Silver da 6,5 cm, Pigeon Blood Silver del Leopard Snake Skin, Green da 8,5 cm, Molto belli, Dark Angel da 8,5 cm, Adesso ci abbassiamo, Qui abbiamo dei Tefe da 6,5 cm, Da 6,5 cm, Allen Quer da 8 cm, Pigeon Blood Snake e Verde Snake da 8 cm, Pigeon Blood Silver e Pigeon Blood Red o Blue da 10, Pigeon Blood Red o Blue da 10, qui abbiamo dei turchesi rossi da 8 e verde snake da 10 turchese brillante e blue diamond da 10 e da 8 ok questa è la disponibilità attuale reale presso il nostro negozio potete venire tutti a vederli acquistarli oppure online al nostro sito www.omniapet.it inoltre vi comunico che sul nostro sito poi sotto il video vi allego il link dove vedere le nostre consegne consegneremo per i primi di settembre a Bari quindi faremo tutta la costa pugliese della 16 bis della statale 16 con le nostre consegne sia di pastone discus e quant'altro vi possa servire e sia il 30 settembre faremo le consegne lungo tutta l'adriatica da manfredonia chiaramente oppure casello di foggia verona quindi tutti chiunque volesse acquistare i nostri prodotti discus pastoni e tutto quanto sappiate che per il 30 settembre vi allego sempre il link dove leggere tutte le le modalità di come poter acquistare faremo le consegne da foggia dal casello di foggia fino al casello di verona chi si trovasse lungo questo asse ci possiamo incontrare fuori caselli autostradali per le consegne vi allego sempre il link dove potete leggere tutte le informazioni necessarie oppure se qualcosa vi sfugge o volete approfondimenti maggiori potete contattarmi sempre tramite telefono cellulare o email e quant'altro whatsapp e quant'altro quindi potete acquistare anche le nuove varietà di stand care che tra breve metterò il video anche su youtube con questo vi saluto vi ringrazio nella vostra di aver perso un po di tempo nel vedere questo video se vi va mettete un mi piace oppure vi registrate al canale ciao a tutti e grazie da peppe ciao